. Uomini e donne oggi, Sabrina Ghio si è fidanzata? Gli indizi. Uomini e donne, Sabrina Ghio ha ritrovato l'amore? Gli indizi social. Non è andata affatto bene a Sabrina Ghio, ma forse ora potrebbe aver trovato l'amore. L'ex allieva di amici è arrivata a uomini e donne con l'intento di trovare finalmente l'amore e iniziare a fare la fidanzata. La bellissima donna è infatti diventata mamma molto giovane e per questo è dovuta crescere più in fretta dei suoi coetanei. Nello studio del trono classico, l'ex ballerina sperava di incontrare un uomo che le tenesse testa, che la facesse sentire amata per quello che è, senza dare peso al suo importante passato. In ogni caso, Nicolò Ragnolo le ha detto no perché aveva compreso che tra loro, al di fuori della trasmissione, non sarebbe andata affatto bene. In questi ultimi giorni, la Ghio è in vacanza con alcuni suoi amici in Messico e si gode i primi giorni del 2018 nel migliore dei modi. . Alcuni indizi social riportati sul blog di Isa e Kia sembrano indicare la possibilità di un nuovo amore per la dolce Sabrina Ghio. Insieme a lei, in Messico ci sono delle sue amiche e anche alcuni uomini, tra cui uno che ha catturato l'attenzione di alcuni fan dell'extronista. . Lui pare chiamarsi Carlo e tra le sue Instagram stories è apparso uno scatto in cui le sue gambe sono intrecciate a quelle di una donna. Ad allarmare tutti è però stata un'altra fotografia. La social dinamica dell'extronista di Uomini e Donne è stata condivisa una fotografia in cui si intraveda una donna bionda con il costume nero mentre si scambia alcune coccole con un uomo. . Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne? Le prove. La donna che appare in quello scatto potrebbe essere proprio l'agghiu. La ragazza in foto indossa un costume nero, lo stesso che vediamo indossare a Sabrina nelle foto postate sul suo profilo social. . Inoltre, la giovane che si coccola con l'uomo in foto ai capelli come l'extronista. Casualità? Non ci resta che attendere maggiori informazioni e capire se la bellissima ex ballerina sia davvero riuscita a iniziare il nuovo anno con un uomo al suo fianco. . Intanto, aspettiamo anche alcune news riguardo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. .